allora la mia ricetta è prima di tutto faccio un sugo con il pomodoro e basilico mamma la fa benissimo la parmigiana la parmigiana come la fa la mamma non la fa nessuno frigo le melanzane mette la sette meno un quarto comincia a stendere melanzane friggi e poi quando le melanzane sono fritte la parmigiana è un ottimo un ottimo elemento per tirarci dentro casa faccio uno strato di melanzane uno strato di parmigiano uno strato di sugo al pomodoro associare di far parmigiana quello che fa un'altra cosa uno strato di mozzarella e poi ci metto anche un altro ingrediente che quello me lo tengo segreto mia moglie fa la parmigiana 5 6 padelloni di melanzane alla parmigiana ecco poi diciamo che smaltirli non è facile la metto in forno 20 minuti ed è buonissima poi mangiamo beviamo giochiamo perché come cucina lei pochi cucinano